Grazie a tutti. Grazie a tutti. Iniziali in 13 e 9. Evita Waiselle al comando. Francesina in seconda posizione. Per il momento deve adeguarsi a largo Fanny AMG. Primo quarto ultimato in 28 e 7. Fanny AMG va ad attaccare. Nel frattempo ha sbagliato il favorito Falstaff Griff. Fanny AMG passa su Farma Waiselle. Terza posizione per Francesina Ors. Inizia la risalita. Fiero Dark ma trova due anticipi. 600 in 43 e mezzo. Rifiata nella frazione successiva la leader. 200 metri in 16. Scarsi 59 e 3 di 800. Si propone a largo Francesina Ors in anticipo su Fiero Dark. Le due vanno su Fanny AMG. Sembrano coglierla in difficoltà. chilometro in 1'14 e 3. Fanny AMG. Francesina Ors. Fiero Dark. Poi Frank Dino. Lungo i paletti. Farma Waiselle. Tre quarti di miglio in 1'28 e 3. Prova a riprendersi. Fanny AMG. Sempre Francesina a largo. terza ruota per Fiero Dark. All'ingresso in retta d'arrivo. I tre schierati a ventaglio. Battute conclusive con Fiero Dark che sta passando. Fiero Dark che corsa almeno un giro in terza ruota e successo finale. Frank Dino al secondo posto. Per il terzo probabilmente ma dico sottolineo probabilmente resiste lungo i paletti Fanny AMG. Media di 1'13 e 6 per questo Sauro Davarenne che ha un coraggio incredibile. Un passo notevole e riesce a risolvere in retta d'arrivo dopo aver corso costantemente in terza ruota. Arrivo probabile ed ufficioso 5, 6 e forse 7. Grazie a tutti.